Benvenuti in questo nuovo video teoria dei massimi esperti, siamo tornati dopo qualche settimana di pausa, oggi parleremo di un argomento molto discusso all'interno della community, è che ha attirato molto l'attenzione, ci riferiamo alle armi ancestrali, Pluton, Poseidon e Uranus, essendo queste armi di distruzione di massa sono capaci di annentare anche intere isole, infatti se usate scorrettamente tipo nelle mani dei malvagi sarebbero capaci di portare la distruzione del mondo. Quindi andremo ad analizzare prima Pluton, poi Poseidon e infine Uranus. La prima arma ancestrale che analizzeremo è Pluton, partendo dai riferimenti mitologici del nome. Plutone è una divinità della mitologia romana, signore del sottosuolo e dell'oltretomba, ed è l'equivalente della divinità greca Ade, signore degli inferi. Il termine Pluton deriva da Plutos, che significa ricco e possiede un duplice significato. Il primo come Dio dei morti, ed è riconducibile ad Ade, e significa colui che si nasconde. Il secondo come Dio della prosperità e della ricchezza, riconducibile a Pluto, ed indica i tesori nascosti nelle viscere della Terra. Dopo le leggende, torniamo a One Piece. Pluton sembra essere stata una grande nave corazzata, costruita dai carpentieri di Watersever. Pluton, nella sua versione originale, dovrebbe essere ubicata ad Alabasta. Sappiamo bene che Nico Robin, essendo l'unica persona in vita a saper leggere Pony Eclipse, a parte Pudding quando risveglierà il potere del terzo occhio, è anche l'unica, Nico Robin, a sapere dove si trovano le amme ancestrali, e anche chi sono, come nel caso di Shiraoshi. Quindi, in qualche modo, le può risvegliare, quindi le può trovare, le può far ritornare a galla, le può riesumare, e può dirci appunto dove si trovano. Naturalmente, Pluton dovrebbe essere ubicata ad Alabasta, ed esiste anche un Ponecliffe custodito dalla famiglia Nefertari, nelle tombe del Palazzo Reale, che indicano il punto preciso in cui cercarlo. Pluton, quindi, era un'arma antica, una nave antica. Ma poi cosa è successo? Andiamo con ordine. I progetti della Pluton furono ereditati dai Carpentieri di Water 7, in modo tale che se la Pluton originale fosse stata riesumata, si avrebbe potuta creare una nuova Pluton uguale e contraria, per contrastare quello originale. I vari progetti, quindi, sono stati ereditati nel tempo, fino ad arrivare a Tom, a Iceberg e, infine, a Frankie, Cotiflam. Quest'ultimo, come bene sappiamo, li ha bruciati. Quindi, possiamo pensare, possiamo illazionare, che lui, prima di bruciarli, li abbia imparati a memoria. Naturalmente l'illazione, ma ricordiamo che Frankie, sin da giovane, sin da bambino, era un genio, costruiva delle navi incredibili, no? Ricordiamocelo. Quindi, ad oggi, solo Frankie potrebbe riprodurre tale nave, per contrastare la Pluton originale, con una nuova Pluton, appunto. Magari, possiamo ipotizzare che la Sanni sia una riproduzione della Pluton in scala minore, naturalmente, più piccola. Ulteriore illazione potrebbe essere quella che, per riesumare, magari, la Pluton originale, in qualche modo ci voglia un controllo di un discendente della famiglia Nefertari, appunto, chi è la principessa Vivi Bibi. E adesso Poseidon. Iniziamo, anche in questo caso, dai riferimenti mitologici del nome. Poseidone, in greco antico, Poseidon, è il dio del mare, dei terremoti, dei maremoti, nella mitologia greca. Nella mitologia romana, invece, prende il nome di Nettuno, e qui, naturalmente, ci colleghiamo al padre della principessa Shiraoshi, cioè re Nettuno. Il simbolo di Poseidone e il tridente e gli animali a lui sacri erano il cavallo, creato da lui dalle onde del mare, e il delfino. Egli era definito con il termine enosigeo, ossia scuotitore della terra. La descrizione classica, tipo Poseidone, lo ritrae sempre alla guida del suo carro, trainato da cavallucci marini o da cavalli capaci di correre sul mare. E spesso era rappresentato insieme a delfini e con in mano il suo tridente. Egli aveva il controllo su tutti gli esseri marini. Dopo queste altre leggende, ritorniamo nuovamente su One Piece e diciamo che Poseidon, più che un'arma convenzionale, è in realtà la capacità, l'abilità, da parte della principessa Poseidon, dell'antica principessa Poseidon, di controllare i re dei mari. Tale abilità è stata trasmessa lungo la linea di sangue della famiglia reale e si manifestava nelle varie principesse fino ad arrivare a Shiraoshi. Infatti lei è attualmente la principessa sirena dell'isola degli uomini pesce, nonché figlia di re Nettuno, è una sirena gigante e appunto Poseidon. Shiraoshi ha un carattere molto fragile e tramite vari avvenimenti si è trovata a legare molto con il nostro Monkey di Luffy, che potremmo definire il nuovo Joy Boy. Dopo il loro incontro, quando Luffy nasconde attraverso il piccolo squalo, la fa uscire dalla sua stanza del castello. Inoltre quest'ultimo l'ha anche salvata, insieme al suo re, da Odi Jones. Il suo incredibile potere si è manifestato diverse volte nel corso degli anni e sembra attivarsi quando la principessa prova una forte emozione. Incredibile quando, chiamando il re dei mari, riesce a fermare la caduta inesorabile della Noah, che stava comunque venendo distrutta dagli Elephant Gatling del nostro Rufi. Ricordiamoci di Joy Boy e della principessa Poseidon della famosa promessa. Infatti, la leggenda tramandatasi da re a re nel regno afferma che un giorno sarebbe arrivato qualcuno che avrebbe ereditato la volontà di Joy Boy e che avrebbe mantenuto fede a tale promessa, cioè quella che sarebbe stata stipulata nel portare in superficie gli uomini pesci. Dopo questa promessa, finalmente, è arrivata Monche di Rufi. Quindi sappiamo bene che dopo questi 800 anni, dopo tantissimi secoli, finalmente la promessa fra Joy Boy, cioè Rufi, e Poseidon, cioè Shiraoshi, verrà portata sicuramente a compimento. Adesso però, prima di procedere con Uranus, vi vogliamo ricordare che Insama, oltre ai vari manifesti di Rufi e di Titch, avesse anche quelli di Shiraoshi, cioè Poseidon, e di Vivi, appunto, la discendente di Nefertari, l'unica famiglia dell'antico regno che non accettò di rimanere a Mary Joa. E adesso passiamo ad Uranus. Quest'ultima è un'altra arma ancestrale nominata da Nico Robin, ma di cui non si conosce ancora nessun dettaglio rispetto alle altre due. Come nel caso delle altre armi ancestrali, il suo nome si riferisce al mito, ad una divinità greca. Infatti, è la personificazione del cielo, il padre di tutti i titani, il nonno dei primi dèi dell'Olimpo. Il termine Uranus significa in greco antico il cielo stellato, il firmamento. La sua immagine è stata inoltre ricostruita nel altare di Pergamo, dove appare come figura alata. Nell'arte romana, Urano è invece rappresentato come la personificazione della volta celeste. Per Uranus facciamo riferimento a tre diverse relazioni. La prima è Dragon, la cui figura è sempre stata molto misteriosa, il ricercato numero uno al mondo, il capo dell'armata rivoluzionare, il nemico giurato dei draghi celesti del governo mondiale. Molto interessante anche il tatuaggio sul suo volto, cosa che non vi era ancora quando era presente all'esecuzione di Gol di Roger, quando tra i tanti personaggi illustri c'era appunto pure Dragon. Uranus potrebbe essere per esempio un caso, un animale incredibilmente storico, mitologico e antico, cioè un drago magari custodito in quell'uovo che aveva Gol di Roger e poi passato nelle mani di Monkey D. Dragon dopo l'esecuzione di Roger appunto. Infatti, se ricordate, quando Dragon salvò Sabo, circa 12 anni fa nella trama, lui parlò di un potere che non era ancora sufficiente. Quindi, se fosse stato un frutto, sarebbe strano dire una cosa del genere per un uomo che già era abbastanza adulto e che quindi doveva essere già abbastanza potente nell'utilizzo di tale frutto. Se invece fosse stato un amma ancestrale, quindi Uranus, e quindi un drago che doveva avere il tempo di crescere e quindi diventare sempre più potente, lui doveva attendere del tempo appunto, per aspettare che il drago diventasse sempre più grande. Noi diciamo questo anche riferendoci ad attere leggende che richiamano ad esempio Rayquaza nei Pokémon, un drago leggendario che genera vento, tempesta, fulmini e piogge. Vi voglio ricordare che ogni volta che appare Dragon, lui è accompagnato dalle tempeste, dai fulmini, dal vento. Ricordiamoci quando salva Rufy da Smoker o ancora quando apre un barco fra le fiamme. Incredibile! E questo lo ha sempre accompagnato. Quindi noi possiamo pensare che Uranus appunto sia un drago vero e proprio, come ha un mancestrale. La seconda illazione è Elbaf. In questo caso c'è solo un richiamo che possiamo fare, ossia, come abbiamo citato negli approfondimenti storico-culturali e mitologici. Urano era la divinità primordiale che diede vita alle prime creature che popolarono il mondo, cioè i titani, poi i ciclopi e i centimani. Tutti esseri identificati come giganti. Quindi potrebbe esserci un collegamento in One Piece tra l'arma Uranus e i giganti di Elbaf. L'ultima illazione è quella su Momonosuke Kozuki, figlio del leggendario Oden. Noi diciamo questo perché lui comunque, facendo un'illazione, oltre a essere discendente diretto della famiglia Kozuki e della casata dello shogunato di Wano Kuni, è anche figlio dell'antico regno, cioè di Amatsuki Toki, una donna che è venuta da 800 anni nel passato. Quindi Momonosuke è come se fosse per metà un uomo del passato. Il piccolo Momonosuke poi dimostra un potere incredibile, analogo a quello di Shiraoshi. Infatti lui riesce a comandare Zunisha, cosa che in vita può fare solo lui, mentre Rufi riesce solo a sentirlo. Andiamo avanti. Momonosuke, comandando Zunisha, può sprigionare una potenza simile, similare a quella dei re dei mari, senza eguale quindi. Quindi alla fine la portata è quella di una vera e propria arma di distruzione di massa. Ricordiamoci anche che Zunisha per molti anni anni è stata costretta per molti secoli a vagare a vuoto e quindi, come sappiamo, Uranus è l'unica arma di cui non si sa proprio nulla in questi anni. E' importante anche notare che sarebbero tre regni legati in modo inesorabile, Alabasta con Pluton, Fishmen Island con Poseidon e Wanokun con Uranus. Naturalmente, se quindi Momonosuke e Zunisha non fossero Uranus, potremmo comunque considerarli con una portata di tale comando come un'ipotetica quarta arma ancestrale. Quindi, in conclusione di questo video, Rufy potrebbe ritrovarsi ad avere addirittura nella fine del manga, nella guerra al governo mondiale, tutte le sue armi ancestrali a suo favore. Detto ciò che il video è finito, fatevi sapere voi cosa ne pensate con un commento da sfogliatore, ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanella, di passare a tutti i nostri social e, come sempre, noi abbiamo detto solo la verità e ricordatevi che ci sono anche gli abbonamenti. Arrivederci e ricordatevi che qui, ripeto, c'è solo la verità.